Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. I dati dell'Inps diffusi in questi giorni dalla stampa regionale riguardanti l'andamento del mercato del lavoro in Puglia certificano una vitalità del nostro sistema produttivo che ha come logica conseguenza ricadute molto positive sul fronte occupazionale. Stando a quanto riportato da molti organi di informazione, infatti, nel 2019 in Puglia i contratti di lavoro a tempo indeterminato sarebbero sensibilmente aumentati rispetto all'anno precedente facendo registrare di converso un calo di quelli a tempo determinato e in somministrazione. Molto interessante anche il dato riportato dalla stampa è relativo alla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato più 31,8 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente, dal momento che certifica un segnale di fiducia da parte delle aziende private sulle prospettive di crescita e di sviluppo, tanto da ridurle a stabilizzare i propri lavoratori. Diminuiscono inoltre rispetto al 2018 le cessazioni dei rapporti di lavoro. Quelli riportati dalla stampa, conclude Borracino, sono dati che confermano il gran lavoro che, come governo regionale, stiamo conducendo per supportare con misure strategiche dedicate e una visione di lungo periodo sulle prospettive di crescita della Puglia, il nostro sistema produttivo nella consapevolezza che, sostenendo un nuovo modello di sviluppo economico più sostenibile e innovativo, sia anche possibile determinare positive ricadute in ambito occupazionale.